No, comunque la skin è questo lo so proprio io, non c'è un cazzo da fare Oh, quelli da Activision fanno mille skin uguale a me ma non ho mai dato una lira, vaffanculo Ho partecipato al torneo organizzato da Velox e Mario Fartiz, ecco com'è andata Ma come chi, baby? Eh, eh, è quello che io ho detto Ma come è morto Liam Payne? No, no, aia no Ma la bomba ragazzi è 9 Ma è tutto pancato Via, via, via Guarda subito chi il di Nate, guarda Io c'ho lato sinistro, regà Io sto guarda, io sto guarda centro, sto guarda centro, è passato uno centro C'è uno sopra Vado top, vado top Dove, 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 dove Sul tetto Troppo l'avete fatti? No Quanti c'ho le loro? Il tempo scorre Black Ops, chiudetela ora No, andate, non te ne culate Bravo Ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato subito, vedete voi Ma, manca Nando ragazzi, manca, manca fangamer Nando sta campionando Nando, do cazzo stai? Nando, Nando, cazzo, ma puoi fare me, con la me? Piazza, piazza, la bomba Ma, ditemelo cazzo, quel coglione del tuo piazzo, io, aion, sei un coglione Sei un coglione, uu Ragazzi, audio, audio, audio E quando ci fa 1v3 Guarda me, guarda me, Nando, fa anche messo sopra, sopra Oh, fate in serio, abbiamo aspettato sei anni per vincere Oh, voglio serietà su sto cazzo, rim Guarda che non muoviamo dalla niente, cento per cento Io sono lato sinistro, piano, io sono la sinistra Morto uno Questa nade su B Sì, sto verso la bomba, raga, mi sa che pianta, occhio Sto nato, sto nato, sto nato Go pro long E poi contro di noi, finiteli Ah, ma sta a destra uno, chi è che ha lasciato destra? Chi è che stava a destra e l'ha lasciato? C'è la Gibi, c'è la Gibi, c'è la Gibi, c'è la Gibi No, ma come sei morto, aglio no Ma cazzo sei morto Una tira a tante gente Ma cazzo è morto Via le figure, ti spuggeranno obiettivo Eh, c'è stato un finestra Mi è dato davanti, sta morto Travolo sul B Chi è morto è il nostro? Io Eh, sopra, ragazzi Dove stanno? Stà dando l'aria Eh, uno fin aya Ma io no? Eh, io sto guardando la bomba Ci preparano a un assalto finale Spero che abbiate ancora energie Che mappa di merda, porco C'è fuori dal cazzo! mouse and kibber god! vipa di merda! a merdi! a merdi! c'è uno della bomba? stanno quest'anno? stanno quest'anno? ucciso ucciso a morichez! ah hai stato uno! vai! 3-0 dobbiamo fare un calavero! grazie a bolla! secondo me siamo tutti su B e coprimo? regà! approvamo! ci sono una niente! ma magari riusciamo a killarli raga! dove? muori cazzo! dove sono? ma l'ho visto sono morto tempo agli scorsi! ora ho mai più! non muori! non muori! andiamo su B! poi in attacco però fidate! veniamo tutti sul lato! piazziamo e coprimo! attrico probi! se volete redimermi! questa è l'occasione giusta! nade arriva! un po' di panna! dai c'è uno lì! eh lì! in mezzo ai chiari! l'ha fatto! morto no? uno è mid mid mid! occhio mid! forse con la nade ve lo fate eh! no c'è nel trofi! c'è nel trofi! devono plantare! devono plantare! regà ci hanno disparato in mezzo ai chiari! è dietro! fai me! mid mid mid! fatto fatto fatto! venite lì! un calmo! devono plantare loro! non ci fumo mattolo! per me! a meno a me! vieni! 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 siiii! tanto io! tanto io! copri il mio copri il mio! sono gay! sono gay! entriamo a cazzo 2! sono attitudine! qualcuno! occhio dai! cazzo! ma ma si è un coglione! ma ti ho detto aspetta! ma tu! ma tu! ma tu! ma tu! aiuto! 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 mi hai subito! io sono capito! io sono capito! no! un nemico! buono! fuori quello stronzo! ho visto! ho visto! ho visto! ho visto! ho visto! po' ciò zazzone! sei mare incoglione! che ride tutto! ok! 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 ho fatto un peggio! dover mollare! uno! scena sopra! scena sopra! io ho foccato! ah! fai 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 fai! hh! hanno sparato! non so da dove? sulla bomba! sulla bomba! sulla bomba regà! una plantà? si si! per prendere la bomba! è stunnato! passare! fatto! ho fatto pure un altro! sempre lì dietro stan! stava sempre dove dove dove? un altro subito fuori davanti c'erano tutti i dritti a b lega non ti rende un trofi per favore io planto e poi come se ne muo vabbè buono Scappa! Scappa! Vai perdere! Poglielo! Sì! 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 L'avevo detto! L'avevo detto! Sì! 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 Tornate su zombie! Coglione! Tornate su zombie! L'avevamo detto! L'avevamo detto signori che vi avremmo regalato emozioni! Questa è quella della neve! Come la giochiamo? Spanno di taglie! Spanno di taglie! Cambiate armi e mettere... Io direi tutti a R! Che dite? Sì! Io ce la R! Ci sta eh! Dove andiamo però regà? Eh questa è una bella domanda! Che ti fa... Allora attacchiamo! E non mi rifanno una bomba e tutta sinistra no? Dove c'è quel corridoio? Allora magari loro vanno tutte e due a sinistra e noi andiamo tutto a due a destra! Quindi tutti a destra? Fede io direi... Vi dirci io te magari! Io Dario da... Io Dario proviamo a destra! Ok! Dipende la cosa però! Sì! 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 Nito! Nito! Ma la Mandozchi qua? Così ci sfondano ragazzi e veniamo da dietro eh! Che vogliamo fa? Che vogliamo fa? Wow! La Mandozchi sta in edifici qua! Lo vedi? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? L'hai fatto? Ma si è stato ammazzato! Ah pensavo... Pensavo... Pensavo che lo vedessi i dubbi bro! Che mappa di merda! E' bello! E' bello! Ah puttana! Questi sono ultimi spot! Ah! Non posso pingare! E' bannato! Oh cazzo! Scusate! Non puoi? Eh! Io ho pingato! Vabbè! Attento! Allora voi andate di destra! Alla fredda di destra! Fate tre su due a sfista! Grazie! Nei danno sicuro! Attento! E' uno tua! Ah Leon gira... Gira da... Gira da due zona! E adesso no? Sì sì! Un altro quale me è! Un altro quale me è Simo sopra! Non ho fatti due io eh! Fede son con te? La vedela da voi Simo eh! No! Io giro da... Eh vabbè! Ok se tu c'è a sinistra! Sì io c'ho sinistro! Ok io c'ho un passato finale! Spero che abbiate ancora energia! Ma piccata! Non piccata! No! Io ci sono... Basta che il quarto settimo mi è arrivato domani! Sì sì sì! Sì sì! Infatti se stiamo così regala cominciamo! Guardami a sinistra tu! Tutto a fondo a sinistra... Allian! Una a sinistra! Una a sinistra sul nato! Una a sinistra! Prendete dietro questa colonna qua però! Colonna di sinistra! E va... Se va su andiamo tutti e tre! Ok Adio! L'azione lo vede! L'azione lo vede! Anch'io anch'io! Uuu! 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 Bravo! Trovalo! 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 A sinistra! No! Vai prendi a andare! Andiamo a uccidirli bro! Ma... Non andiamo a sinistra? Andiamo a sinistra? No andiamo a uccidirli capito! Non andare per plantare! Ok ok ok! In caso planta mobili da dietro! Non eliminare lo che viene! Qua! Sbaglio qua di dietro! Tipo da mid bro! Chi è che mi ha sparato di lui? Chi è che... Mi ha sparato di lui? È proprio una container! No mi ha sparato di lui! Mi hai tolto 60 di vita! Chi? Tu! 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 Ma come? Il pazzato! Sì! Capito? Si è messo in mezzo! E' l'amo a dietro! Hai visto la testa? Io vado a sinistra! Vado a bid diretto! Dove l'ho messo prima! Sinistra come prima! Loco a volontà! Vado lì! Vado lì! Ti metto troppi sopra! Ma chi metto troppi sopra? Ah metto due! Dario tanto non arrivano da lì! Se arriva non ce li ho io! Vado lo tuo! Vado lì! 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 Devi stare coperto e non cliccare! E' una merda da lì! Non piccare i bro... Io io! Da sopra! Da sopra! Da sopra... Da lobbying! Vado in hustle! L'タino un aumento! Ho acquistato una volta! c'è una nade c'è una nade c'è una close push 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 sotto di te devo venire da te fede audio? no forse tra è su acqua su a 1 non pushare buono guarda torna da te fede sicuro a 10 secondi buono 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 c'è la bomba bravi buono buono sinistra non vado più io così non lo sapevo però mi fermo prima mi fermo prima capito dobbiamo essere con me vai ok ok via le sicure distruggere l'obiettivo la bomba 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 un tunnel le scoccioli ora o mai più un e dove i picchi detti solito zazò da quella finestrella piazziamo la bomba c'è qualcuno sopra io vero hai piazzato no mi spara da me vittato poco no ma quanto ci metta a scavare casa è il punto è il punto è il punto non so che posso un buco secondo me se becchi pure hai visto? non serve che rimani rimani audio sta piazzando vai vinta 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 ripicca si si ripicca buono buono si sia piantata ha piantato per questo diciamo che era buono comunque la sinistra quando salì l'aglio non si rimaneva fermo non moriva cioè non morire ci ha messo sei anni a scavacare ci mettesse potrebbero potrebbe e tu un caso ferro da su di lui c'è una vista c'è stata una mara uno mito uno mit prova net matta se mi esce madonna non è la ma da me la mano assista più la mano e non posso finirsi sta più a sinistra fatto 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 acqua qua e non posso dire a centra comunque a chi sparava in insomma sono sbagliato ma l'avete viste rega io vado di nuovo sopra a mid mid perché l'ho preso una bella chiametta riprovando questo pari non si fa ma lo rifaranno come pure pazienza nati ma vediamo che fanno prendiamo prendiamolo una killetta se riusciamo insomma che chi il senza senso non ma se l'hai dato non è sopra rega è sopra si è sopra oh dietro 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 ragazzo che l'hanno va dietro non l'ho sentito ah non l'ho legato è vero sto scordato anch'io sopra in grana gira tempo scorre black ops chiudetela ora mamma mia che nade mamma mia bravo no di tre metri una pallina il nostro ora dipende tutto da te no è peccato ma perché ho preso light e la neve se non ci devo a ma non abbiamo una classe calmi calmi va bene va bene ma qui un po' più proteggere io io bro tanto sai che devo dire che qui abbiamo aiutato mi stanno sparando in free fire hanno tirato il trophy hanno tirato il trophy sua ragazzi mi stanno sparando fatto cool buono c'è un vantaggio dove da dove e uno sinistro sono due cazzo sono due tempo e contro di noi finiteli occhio ti tirano i nade vattene ma dove 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 vado sul destra fede su va su va su serve sapere dove l'altro sono qua davanti al sinistro ora dietro aspetta aspetta resta solo nemico trovalo dietro dietro no 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 4 ma sta fede qua non dovevi ma non penso perchè ne hai chiamati due a destra però raga no c'è non è che bravo 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 puliti 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 cazzo tu a destra no ma perché se ce ne chiami due noi andiamo alla cattiva invece stava più indietro lei va bene va bene va bene ho sbagliato io perchè eravamo due v1 e l'ho pushata ho sbagliato lì eh ma non pensi io pensavo che stava ancora laddentro invece stava dietro si pure io pensavo così se lì va bene va bene va bene va bene va bene va bene adesso proviamo a pitch questo ma se vuoi dai tutti sinistra io tipo guardo il pietro si 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 va bene così raga sinistra ah bravo dovete sparare a caso in pre file non vi prendete dentro a alla finestra eh perché si fanno così loro con me io non sparo io non sparo sparate voi eh sparate a caso dentro per favore ti salite? ti salite? ti salite due volte in testa stami fatta ciasso copritemi copritemi guardatemi eh non posso si si guardo io se di ero no c'è culi in etwich eh migranaggio cul eh dietro la finestra la fide close mi sono stronti mi sono stronti un momento in gradaggio mi chiedo arriva la lama mi chiedo arriva la lama mi chiedo dove? eccoci lei resta un nemico fallo fuori quello stronzo si si te l'ho detto te l'ho detto fatemi fare a me fatemi fare a me faremelo fare un dieci bombe mio franno sinistra zazzò vai con vai con Dario sinistra poi andate tu due sinistro poi andiamo a tutti qua insieme voi due cerca i distrutti andiamo a bomba zazzò un altro giorno arrivato sotto dai che si buttato bene il mare giù desto uno rimane a testa zazzò rimane a testa ricopro la sinistra mh mh oh con la pista berri mi penso mi ha bruciato mi ha bruciato sotto tutti ieri fatto? fatto già sotto? freddy bery fasi fatti in doppia dai dietro al muro lui si e io no ma baffanculo gioco de merda si preparano a un assalto finale spero che abbiate ancora energie un bel humor bomba dietro bomba dietro bravo 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 peccato dai bravissimo qua uno deve andare sopra freddy bery esatto cambia termica allora alion tu vai sotto devi guardare in middo ok la sotto scale scale a sinistra uno va sopra e la zona va a destra piano piano tipo 4 non andare dentro le finestre prima bravo così non ho capito ah io rimango sopra così? non ho visto manco la r è morto vede io passo sotto vede provo sotto i nemici hanno piantato la bomba quando ho sfontato raga fede non era una camera da letta edesi sente fene non è io no io ho cambiato ho cambiato perchè chiudono no no siete io te sento c'è uno almi o uno almi un allenamento o un almi internazzo un almi internazzo c'è uno dietro cuor vede un bel ninja bravo bravo vede sì cattolone la posciamoli come breiless ispappolamoli non siamo la gara tattica del cavallo di troia ragazzi qualcuno passa da sotto nel condotto sicuro c'è uno qua io erga sopra c'è l'era arriva da lì sono due su bomba su bomba qua sempre così piazziamo copritemi e via e chilling ok io vado sotto invece anzi guarda io vado sotto a destra però guardo vado fuori c'è da sotto pianoforte guarda leon guarda ancora mi guarda ancora metta da melanite non so come la freddy guardava sopra uno one shot freddy morto dietro dietro sono qua davanti sono qua davanti sei la nostra ultima speranza non sbagliate no bravo si sta sopra con il vento stiamo disattivando la bomba c'ho provato io voglio arrivare sopra da colito io bro io passo sotto regà io passo sotto stavolta sto su terra ricordate quegli strotti che hanno davanti pochi vetri raga sono davanti a mezzo sono one shot proprio mi sono sotto regà a mezzo guarda mezzo vabbè ragazzi non lo so ah ho detto ah ho detto wow che timing bro assoluto bro non mi è entrato un colpo è il mio testo ragazzi non lo so non lo so cos'hai da me? attuo jesus dispositivo nemico è sopra è sopra da me sopra da me eh porca troia ho rotto tutte le vetrate possibili assurdo odio non è piscina è un solo nemico trovalo uuuh bravo 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 oh flank oh flank io guardo da top guardo da top io arrivo da dietro passando da sotto dritto eliminare l'obiettivo tu andiamo su hobby non mi devi distruggere il vetro però qua davanti ok ok allora uno sotto qua ci ha pushato sotto a destra ve l'hai fatto si c'è G che ha pushato sotto a sinistra raga da te alieno ok ok c'è Barry ok 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 sopra bravo 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 Pollucetics uno contro Polica la vide орт come ti è morito audio oppure piazziamo la bomba bomba attiva non so da una volta più —— ho visto si Vuoi l'era qua? arriva dalla pronti stanno ora dipende 12 colpi veloci non si abbassa ma che gioco di merda è ho premuto contro porco zio sembra che c'ha che c'ha dio santo gesta i coglioni abbiamo lasciato in giocata si l'hanno facciate giocare che l'hanno lasciato in giocata siamo arrivati i secondi comunque ho giocato veramente bene secondo me belle partite nonostante il multi ecco l'ho giocato i primi 4 5 giorni mi sono stra divertito si quello si e mi so più che era bello competitivo ero bello volevo vincere